amici di news auto oggi voglio parlarvi di lei la nuova jeep avenger 4 per e la vediamo anche dal vivo e praticamente è rimasta identica al prototipo che era uscito qualche tempo fa ma la differenza come vedete nel colore verde di alcuni dettagli questo proprio perché questa è una versione ibrida a 48 volt a differenza invece del colore azzurrino che è stato scelto per le varianti elettriche di questa avenger sarà l'unica appunto essere con il 4x4 ed è anche la prima che al posteriore la prima su piattaforma cmp del gruppo stellantis ad avere un retrotreno con il multi link a quattro bracci anteriore rimane sempre un macpherson mentre tutte le altre avenger hanno un sistema di ponte rigido vediamo anche l'altra differenza sono i cerchi dedicati da 17 pollici qua abbiamo dei pneumatici all terrain sono dei falcon nella misura 215 60 r 17 falcon wild peak all terrain eccoli qua ma esce anche con pneumatici invece m più s di serie questi invece sono di un pacchetto diciamo optional ci saranno anche due allestimenti app land e overland un'altra cosa interessante come vedete sono questi adesivi opachi proprio per andare a evitare i riflessi quando si guida diciamo una soluzione che abbiamo visto anche sulla abart 124 che si potranno avere i cofani in nero opaco al posteriore non ci sono differenze tranne per questo bel e robusto guardate si muove tutta la macchina gancio traino di serie di lato invece oltre ai cerchi cambiano anche quale roof bar le barre al tetto anche queste sono belle robuste come possiamo sentire altezza anche questa cambia un centimetro più alta adesso arriviamo a 21 cm da terra mentre le dimensioni sono le medesime della avenger tradizionale 4 metri e 0 8 di lunghezza 1 e 78 di larghezza per uno invece 54 se andiamo escludere le barre al tetto in altezza le barre sono alte vedete quattro dita quindi direi altri circa 6 centimetri in più in altezza approfitto un attimo per entrare e salire a bordo di questa avenger vediamo che tutta la parte laterale dello sportello è in materiale rigido giustamente diciamo è meno soggetto a rovinarsi mentre solamente la parte qua al centro è materiale più morbido il disegno è il medesimo della avenger che già conosciamo tuttavia non so se si riescono a vedere ci sono dei tappetini gommati cluster qua vediamo digitale la strumentazione digitale di serie su questa venger 4 per e abbiamo anche appunto oltre alla strumentazione digitale anche il display da 10,25 pollici come abbiamo visto già sulla venger normale anche diciamo i tassi sono gli stessi che vi ho fatto vedere di recente anche sulla 600 ibrida qua anche questa plancetta la ritroviamo identica alla avenger tradizionale così come il comando delle marce vi ricordo che questa vettura è un ibrido a 48 volt a una batteria da 0,89 kilowattora sempre a 48 volt ma praticamente lavora come un full hybrid il cambio è un automatico a sei rapporti doppia fruzione creato dalla punch automotive al cui interno diciamo è integrato il motore elettrico anteriore da 21 kilowatt quindi circa 28 cavalli faccio vedere qua sopra che c'è anche un altro spazio in plancia la scrittina avenger insomma tutto questo non cambia rispetto alla avenger che già conosciamo quello che cambia è la scrittina 4 per e che vediamo qui un vanno da 15 litri all'interno di questo box che vedete si può regolare un po come i tablet e anche la finitura qua dietro abbiamo sempre le curve di livello cerco di farvi vedere anche tramite la luce qua in basso vedete qua tutte le X del pad di ricarica wireless per il cellulare vediamo delle prese c'è un sb di tipo a una di tipo c e anche una 12 volte poi qua il pozzetto con le chiavi proseguiamo driving mode invece in questo caso sono differenti auto quindi sport neve e sabbia fango più indietro vediamo questo apposito sistema che consente di regolare le porta bibite vedete qua appunto a scorrimento e poi c'è anche il bracciolo appunto come sempre sulle altre avenger che può scorrere poi rivela un ulteriore pozzetto vediamo se riesco a illuminarlo eccolo qui cosa cambia invece sono i sedili più che altro cambia il rivestimento che è molto morbido nella parte superficiale ma la bellezza di questi sedili che sono lavabili sono due volte più resistenti come materiale rispetto alla avenger tradizionale vediamo anche gli attacchi isofix qua bene in evidenza già che ci siamo tra l'altro sui sedili c'è anche una soluzione antimacchia e antifango il volante anche questo è identico alla avenger che già conosciamo andiamo a vedere anche qua sopra tutto il cielo dell'abitacolo è nero maniglie qua con effetto smorzato e andiamo a vedere anche il cassettino già che ci siamo l'apertura anche questa è smorzata e bello profondo altra cosa interessante di questa avenger ibrida 4 per e palette al volante vi ricordo appunto che abbiamo questo cambio automatico a sei rapporti doppia frizione abbinato a un motore termico da 136 cavalli con la catena non c'è più la cinghia guardate anche che carino il battitacco qua in alluminio sembra di sì anche la parte bassa e protetta vedete non cambia rispetto a una avenger tradizionale maniglia negata qua vicino al finestrino posteriore andiamo a vedere un attimo anche la parte posteriore cambia come dicevo il materiale e il disegno dei sedili appunto posteriori qua dietro c'è una tasca vediamo se anche felpata sì bene e c'è la presa usb di tipo c ma ce n'è una soltanto c'è un tunnel centrale non abbiamo però l'albero di trasmissione ma c'è un collegamento diciamo solamente elettrico tra il motore elettrico posteriore che è la novità su questa avenger 4 per e che dà la trazione alle ruote posteriori e anch'esso è da 21 kilowatt vedete poi in basso sto inquadrando anche qui i tappetini in gomma ovviamente lo spazio poi all'interno anche per i passeggeri posteriori è invariato qua prima di aprire il bagagliaio faccio vedere la telecamerina andiamo ad aprire con apertura elettro attuata vi faccio vedere lo spazio qua del bagagliaio che è inferiore ai 380 litri della venger normale anche perché come dicevo qua sotto abbiamo il motore aggiuntivo frazionamento 60 40 abbiamo lucetta qua del bagagliaio un gancio a sinistra e uno a destra e vedete la soglia di carico è praticamente a filo sotto il doppio fondo c'è praticamente un contenitore per il compressore quello che spunta qua sopra è appunto il motore con tutta la sua elettronica dedicata faccio vedere anche sotto questo doppio fondo c'è un ulteriore fondo andando ancora a sollevare vedete che non c'è più niente ok per quanto riguarda le prestazioni di questa avenger 4 per e beh la velocità massima aumenta adesso abbiamo 194 chilometri orari e uno scatto 0 100 invece che migliora pari a 9,5 secondi questo merito anche del motore che dai 100 cavalli delle altre versioni di avenger anche ibride si passa ai 136 cavalli e 230 newton metri contro i 205 appunto della versione da 100 cavalli infine vi faccio vedere il muso che finora non ero riuscito a mostrarvi guardate la griglia è tutta personalizzata ma soprattutto non è forata quindi sono le griglie diciamo un po finte tipo auto elettrica i fari sono gli stessi full led ma la posizione dei fendi nebbia è leggermente cambiata sono un po più in alto e un po più all'esterno della vettura questo per andare a migliorare la guida per esempio in off road e poi guardate anche qua il paraurti è leggermente smussato per avere un migliore angolo di attacco quando magari vogliamo affrontare un ostacolo riusciamo prima a mettere la ruota sopra di questo qua ci sono queste sporgenze che vanno a proteggere appunto il radar che è 5 centimetri in dentro anche questa parte è leggermente più sporgente per andare a proteggere la targa poi questo materiale è un materiale diciamo anti graffio così dicono vediamo un po si pare di sì e praticamente la il colore è iniettato direttamente nello stampo della plastica questo evita appunto che poi si possa rigare e venire sotto magari un colore differente mentre come abbiamo visto anche per esempio sulla dacia duster questo sistema consente appunto di mantenere lo stesso colore sotto appunto se si effettuano dei graffi e altra differenza è qua sotto lo skid plate vedete sulla venger tradizionale praticamente andrebbe dritta questa linea qua invece è stato ricavato questo spazio verso l'alto e questo consente di avere un angolo di attacco di 22 gradi uno di dosso di 21 e uno di uscita pari a 35 gradi infine anche la altezza di quadro è migliorata adesso siamo a 40 centimetri vi faccio vedere che qua al posteriore ci sono i dischi si riesce a vedere però il motore elettrico proviamo a illuminare eccolo eccolo si riesce a intravedere qualcosa qui la cosa interessante è che ha un una potenza come dicevo di 21 kilowatt quindi sempre questi 28,5 cavalli ma c'è un ridottore con un rapporto di 22,7 a 1 che consente di elevare la coppia addirittura a 1900 newton metri da una ottantina circa di base che ha questo motore elettrico questo consente alla vettura quindi di superare pendenze vicine al 40 per cento su terreni impegnativi addirittura di arrivare al 20 per cento in assenza di trazione sull'asse anteriore e adesso parliamo anche della trazione perché anche questa Avenger 4xE ha il sistema Select Terrain di Jeep ci sono diverse modalità innanzitutto vi posso dire che a bassa velocità diciamo fino ai 30 km orari la vettura è un 4x4 con distribuzione 50-50 quindi 50 per cento all'asteriore quindi è un 4x4 permanente di fatto salendo con la velocità tra i 30 e 90 km orari la trazione sull'asse posteriore si attiva solo a richiesta diciamo c'è una frizione che può andare a scollegare completamente anche il motore elettrico posteriore ma in questo caso la frizione rimane ingaggiata e così il motore elettrico diciamo è sempre pronto a partire in caso servisse in caso magari sentisse uno slittamento e infine la velocità si arriva oltre i 90 km orari la trazione diventa invece solamente anteriore altra cosa poi interessante anche se è una ibrida come dicevo la batteria da 0,89 kilowattora quindi più piccola rispetto a altre vetture full hybrid il sistema dato che ha due motori può comunque sostenere la trazione integrale anche se dicevo non c'è un asse che collega appunto l'anteriore con il posteriore ma praticamente il motore elettrico anteriore funge da generatore per quello posteriore così appunto la trazione integrale è sempre garantita anche se si dovesse scaricare la batteria e per sapere di più sul funzionamento di questo ibrido 48 volt beh il nostro direttore Giovanni Mancini ha parlato con l'ingegnere Marco Montepeloso durante la prova della Jeep Avenger ibrida quella trazione anteriore quindi vi invito a guardare il video sempre sul nostro canale infine il select terrain vi dicevo abbiamo la modalità auto quindi la trazione integrale solo su richiesta quindi si può usare nella guida di tutti i giorni in città quando appunto c'è magari bel tempo poi abbiamo la modalità snow quindi neve per un miglior controllo appunto sulla neve in condizioni diciamo invernali sand and mud quindi sabbia e fango appunto su terreni accidentati questo però cambia anche la gestione di come lavora il cambio automatico e del controllo di trazione infine c'è la sport che esalta le prestazioni di questa vettura e potenza e coppia sono erogate sempre al massimo delle potenzialità di questo sistema c'è anche l'e-boost sulle ruote posteriori attenzione guardate qua c'è una fantastica Jeep ma lui chi è il designer anche lui è un Jeepers grande bellissima bellissima bravo continua così lui era Daniele Calonaci il designer della nuova Avenger un designer italiano che però ha messo le mani su una vettura americana grande conclusioni gli ordini partono dal quarto quadrimestre del 2024 le vetture dovrebbero arrivare invece a gennaio 2025 ma ancora non sappiamo i prezzi secondo voi che prezzo potrebbe avere beh fatemelo sapere nei commenti secondo me diciamo saremo oltre i 30.000 bisogna vedere poi questi due allestimenti come li andranno a staccare uno dall'altro vi ricordo che comunque una versione pluri accessoriata già ibrida sta comunque intorno ai 32.000 e allora con questa anteprima della Avenger direi che è tutto ci vediamo prossimamente per altri video ciao un saluto da Marco